I torrefattori italiani stanno aumentando la loro presenza all'estero, lo si vede dalle statistiche sull'export dove si vede che comunque sta aumentando di anno in anno, quindi la presenza internazionale del prodotto caffè italiano all'estero è sempre più invadente. E' vero però che esportare il caffè significa doversi armare con nuovi strumenti, uno dei quali in particolare è la qualità. Per essere competitivi sul mercato internazionale occorre puntare molto sulla qualità perché ci sono degli operatori locali molto forti e quindi il prodotto made in Italy deve essere necessariamente di qualità superiore. Infatti le aziende che stanno aumentando la loro quota sono spesso le aziende che puntano su un prodotto di elevata qualità. Grazie. 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 Grazie.